Questa è un'isola felice perché in un contesto dove la scuola vede moltiplicarsi le sue difficoltà abbiamo qui veramente un filo diretto con l'amministrazione comunale e con i numerosi servizi che ci occupano. La palestra è un doppio asset, è un doppio punto di forza perché da un lato è uno strumento indispensabile per i nostri ragazzi dall'altro è quell'elemento per il quale la scuola si apre alla cittadinanza in quanto condivide le sue strutture, la scuola accanto al campo sportivo, accanto ai giardinetti. Veramente la scuola inserita nelle realtà cittadine, inserita nelle realtà delle azioni è un splendido successo per me.